Almeno 125 milioni di abitanti, terza potenza economica mondiale dopo Stati Uniti d'America e Cina e una natura da fare invidia a tutto il globo. Oggi voliamo in Giappone con Alessandro Maviglio, orientalista, scrittore, già professore all'Università di Kyoto. Allora, Alessandro, negli ultimi decenni il Giappone, terra in cui vivi da tempo, ha subito un'accelerazione anche sulle tematiche ambientali. Qual è l'approccio dei giapponesi verso l'ambiente, la natura e la cultura del rispetto del pianeta Terra? Dobbiamo riconoscere al Giappone un cospicuo vantaggio su molti aspetti civili del pianeta. Tra questi vi sono senza dubbio attenzione e sensibilità alle tematiche ambientali. Ma occorre precisare dal Giappone che il concetto di ecologia, sia in termini più green di protezione dell'ambiente, ma anche di discorso continuativo sull'ambiente, questo discorso pervade da sempre l'anima del Giappone. Ciò si spiega facilmente con il fatto che il Giappone consta di isole, e dunque tutte le implicazioni del discorso ambientale sono da sempre impresse in questa matrice isolana. Io credo sia così per ogni isola del pianeta, a pensarci bene, ma il Giappone differisce da altre, da Capri, da Ischia per intenderci, per una serie di motivi. Per il fatto che sia una nazione, che sia un arcipelago, dunque una somma di isole, per le capacità tecnologiche, per il fatto che essendo una civiltà con un immortale scintoismo di fondo, è fondamentalmente animista, cioè mantiene quello che a noi può sembrare un aspetto selvaggio, arretrato, di comunione con la natura. Ovviamente non è retratezza. Gli isolani di ogni epoca e luogo sanno bene che il loro ambiente è tutto, che un'isola non la puoi tradire. E finalmente forse anche noi occidentali, non isolani, stiamo capendo che perfino il pianeta Terra è di fatto un'isola. Quindi in termini più quotidiani posso confermare che il giapponese vive in simbiosi con l'ambiente, qualunque esso sia, ma anche questa simbiosi è antica, non ha nulla di romantico o modaiolo, è quello che è una pura condizione relazionale con i suoi alti e bassi. Le città giapponesi sono immacolate, le persone sono educatissime, tutto funziona come un orologio e tutto ci fa percepire l'attenzione giapponese all'ambiente in senso lato. Ma è anche vero che ci si può imbattere in zone dove la natura sembra essere stata completamente bandita, cacciata via, ma proprio in questi luoghi è possibile notare che la natura è presente nonostante sia assente. Questa è un po' la stranezza, la magia del Giappone. Il danno giapponese alla natura, quando c'è, è ben pianificato, forse addirittura inteso in termini di vero e proprio sacrificio della divinità alla divinità da parte della collettività. Io lo dico sempre, se un giorno fossimo costretti a vivere in orbita l'unica cultura deputata a eco-amministrare un ambiente isolato, affollato, tecnologico, senza alberi e ossigeno, quella cultura attualmente è solo quella giapponese. Insomma, Italia e Giappone sono distanti non solo fisicamente, c'è anche una differenza nella concezione della morte tra la nostra penisola e il paese nipponico, giusto? Assolutamente sì. E anche qui occorre chiarire che il Giappone gioca con un altro mazzo di carte, in un certo senso, perché è un paese multireligioso e multi-opzione. Quindi, anche se è un modo di dire, si dice che si nasce scintoisti, ci si sposa da cristiani e si muore da buddhisti. Ora, morire da buddhisti assicura una dimensione estetica e igienica, in un certo senso, una sicura salvezza dell'anima e soprattutto il minore impatto delle proprie spoglie sull'ambiente e la comunità. Esiste il sincretismo giapponese, che fa sì che anche per il discorso della morte siano attuate scelte e tendenze innanzitutto virtuose. È interessante notare che secoli fa il Giappone ha adottato la cremazione per motivi principalmente igienici e di gestione degli spazi naturali. Quindi, a mio avviso, il fatto che anche l'Italia abbia aperto a questa pratica è un'ottima notizia, anche in termini ambientali. Quindi possiamo anche dire che un'urna cineraria, sebbene più compatta rispetto a una classica salma, è ancora un oggetto troppo ingombrante. Dunque, il futuro eco-funerario, anche occidentale, europeo, magari italiano, è nella micro-simbolizzazione di massa delle salme. Certamente questo futuro arriverà già pronto dal paese delle Suzuki, degli orologi Casio, dei Pokémon e del Tamagotchi. Grazie a tutti!